Con questa iniziativa si vuole coprire un settore, quello della poesia, molto importante che a Pesaro è stato portato avanti con grande professionalità e qualità da Laura Corraducci negli altri anni e che per la prima volta quest'anno è inserito nelle attività del GAD. Ovviamente non soltanto recitazione di prosa ma anche recitazione di poesia rientrano nell'ambito della prassi di quello che è il GAD e gli amici della prosa. Cerchiamo di fare in modo che con questo nostro ingresso sia ancora più pubblicizzata e ancora più seguita questa iniziativa. Di che cosa si parla? Perché gli appassionati di poesia devono partecipare a questa rassegna poetica? Allora intanto speriamo che gli appassionati di poesia continuino perché siamo alla non edizione la rassegna è sempre andata direi più che bene e c'è bisogno di poesia siamo da quest'anno anche la città capitale italiana della cultura quindi la poesia è una spalla e forse anche una gamba importante della cultura siamo tre appuntamenti come sempre, tre serate, partiamo mercoledì 13 luglio proseguiamo il 20 e finiremo il 27. Allora intanto la poesia credo che vaga la pena ascoltarla tutta noi abbiamo sempre investito sulla poesia contemporanea quindi ci sono tre voci di poeti contemporanei a serata, sono nove però per ogni serata omaggeremo anche un poeta del passato che ha segnato con i suoi versi la storia della poesia la prima serata ci sarà un omaggio a Giuseppe Ungaretti la seconda a una poetessa ucraina-russa visto il momento mi sembrava bello scegliere una voce così che è Anna Akmatova, l'ultima omaggeremo un poeta che è stato ospite alla prima edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa e che si chiama Pierluigi Cappello. Grazie per la visione! Grazie per la visione!